Migliaia di fedeli si accalcano in piazza San Pietro. Il nuovo Papa non è stato ancora scelto. Siamo attaccati da un antico nemico. Cercate il professor Landon. Ha rivelato una delle più grandi falsità della storia umana. Previnci. Ma quale terrificante scoperta. Può aver costretto il Vaticano a rivolgersi a lui. Gli Illuminati. Gli Illuminati erano una setta segreta dedita alla verità scientifica. La Chiesa Cattolica ne ordinò il brutale massacro. Per fargli tacere per sempre. Sono tornati per vendicarsi. Un percorso segreto attraversa Roma. Devo avere accesso agli archivi vaticani. L'accesso agli archivi richiede un'autorizzazione scritta del Santo Padre. Amici, mi avete chiamato voi. Questo è il primo segnale. Che genere di segnale? Terra, aria, fuoco, acqua. E il quinto segnale. Che Dio ti perdoni per quello che hai fatto. Padre, se Dio ha dei problemi non sarà per quello che abbiamo fatto. Ma per quello che stiamo per fare. La nostra Chiesa è in guerra. Ehi! Questo è il primo segno. La ricerca è iniziata. Stai parlando del momento della creazione. Aprite le porte e dite al mondo la verità. Deve essere qui! Ci siamo. Questa è la verità. Angeli e demoni. Questa è la verità.